Qui sono le elezioni decisive, davvero, si dice sempre che i nostri luci, queste non sono davvero, noi nel mondo pensiamo sempre meno per le nostre divisioni. A questo punto la politica economica, la politica militare, la politica estera, la politica Stati Uniti e Cina, vogliamo esserci anche noi o no? Ecco, questo è il semplice obiettivo che noi dobbiamo avere in mente per il nostro obiettivo del paese, di essere uniti con una politica forte e chiara. Io sono proprio d'accordo perché la vera sfida è tra chi crede nell'Europa, l'Europa da cambiare, da migliorare, ad esempio dove si toglie il potere di veto, altrimenti non si decide più nulla, ma un'Europa che abbia una dimensione in cui si è uniti non solo con la moneta, ma anche nelle politiche fiscali, di difesa sociali. Dall'altra parte abbiamo chi, Meloni e Salvini ne sono due rappresentanti importanti, chi non crede nell'Europa e vuole tornare solo agli Stati nazionali.